Ok, voglio riflettere su una cosa, una cosa che per me è molto importante Sì, tu che mi stai guardando, sì, ho un cappello dell'Heinigan in testa Sembrano sfigato, ma non me ne frega un cazzo, mi piacciono i capelli tantissimo E soprattutto ho i capelli scombinati sotto e quindi mi dà fastidio farmi vedere con i capelli scombinati Questo lo devi sapere, lo sai tu, lo so io, lo sanno tutti quelli che guardo nel video e non me ne fotte neanche un po' Parliamo di una cosa molto 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 importante, cari ragazzi miei L'essere lassativo, cioè nel senso proprio che fate cagare Non tu che mi stai guardando probabilmente, o forse sì, perché anche tu che mi stai guardando caro mio Molto probabilmente stai perdendo il tempo su YouTube, ti ringrazio, mi stai facendo guadagnare in questo caso Sei un pezzo di merda se non lo stai condividendo questo video Ma nel caso in cui tu stessi condividendo il video e stai facendo tutto quello che devi fare Stai perdendo il tempo, stai facendo una cosa positiva per me ma non lo stai facendo per te Sarebbe molto più utile se tu magari questo video lo guardassi dopo una giornata di lavoro Magari O dopo una giornata di studio Magari Ma molto probabilmente Brutto cazzone che non sei altro Sei un lassativo, non un lavativo Un lassativo, cioè fai cagare Perché questo? Dico questo per il semplice motivo che ho visto nella mia vita Un sacco di persone che non hanno voglia di fare un cazzo e si lamentano costantemente che non c'è il lavoro Che non si fanno le cose e che ci sono tantissimi problemi costantemente che poi portano al fallimento di qualsiasi progetto Io tutto quello che ho fatto l'ho sempre realizzato con estremo sacrificio Con tantissimi cazzi in culo Ma è altrettanto vero che l'ho fatto e l'ho completato L'ho portato a termine Università in primis Dio mio non immaginate quanto sia estremamente difficile Laurearsi all'orientale E non solo, cioè quindi orientarsi all'orientale è impossibile Ma in più io mi sono laureato vivendo all'estero Brutto cazzone tu che ti lamenti che non ce la fai a fare un esame del cazzo E in più, in più caro amico mio Tu hai anche i soldini di papino Ma non ti metti vergogna Tipo che ne so A 25, 22, 30 anni A tenere ancora la paghetta di mamma e di papà Io anche quando avevo 15 anni cazzo mi mettevo vergogna E infatti andavo a lavorare e mia mamma si incazzava come una bestia Perché diceva che ci vai a fare lavorare? Dimmi quello che ti serve e te lo do Sì con sto cazzo Io volevo i soldi, tanti soldi Perché sto dicendo questa cosa? Riflettivo Ok Living London Way Ok, Living London Way Pensateci un momento Io sono titolare proprietario di Living London Way E siamo una realtà molto giovane Facciamo tante cose Tantissime E poi inoltre io sono Oddio mi metto in ginocchio Io sono presidente di un'associazione culturale No Profit Ok Facciamo tantissime cose Tantissime E in più sono uno youtuber Cazzo Ok Non faccio numeri giganti Però le faccio le mie fottute visualizzazioni Ho fatto un conto più o meno su tutti i social che tengo Twitter, Instagram, Facebook Le fanpage Molto probabilmente tu pensi che Nocciolino sia proprietario solo di una fanpage che si chiama Nocciolino24 O magari Living London Way Ma ovviamente non è così Vivere all'Undra Trovare l'amore all'Undra Sono io Cioè nel senso sono io Sono di mia proprietà Dio È assurdo Io Faccio video Facciamo un casino di cose E E Ristrutturiamo E Dio Che vi posso dire Siamo dei creativi Facciamo cose Ok E io sto smattando Terribilmente Nel trovare una persona Che davvero abbia voglia di lavorare È assurdo E il punto Sapete qual è? È che qui vengono le persone E pretendono Non sanno fare un cazzo Di niente Di niente Non sanno per dire Montare un video Ma così come non sanno montare un video Non sanno magari parlare inglese E se sanno parlare inglese Non sanno parlare inglese Ma Cioè non sanno fa nulla Di nulla Di nulla Allora uno gli dice Ok Facciamo in questo modo Ti do la possibilità di imparare Vieni qui Fatti Fatti conoscere Fatti apprezzare Brutto cazzo Che non sei altro Mettiti in gioco E invece Qui si pretende subito Contratto a tempo indeterminato Fesso mensile Più questo Più quell'altro Oh Ma chi cazzo Mi credete di essere? Ma lo volete capire? Ragazzi Mi metto di nuovo in ginocchio Andate In giro per il mondo A pulire i cessi I cessi Cioè È assurdo È assurdo La nostra è una realtà Super dinamica E siccome non è un lavoro convenzionale Perché effettivamente Facciamo un fottio di cose In una maniera un po' particolare Strana Ma divertente Cioè a questo punto La gente crede Che il lavoro Necessariamente sia un qualcosa Di brutto Quindi quando uno Vede che è un qualcosa Di bello Di divertente Non gli danno La dovuta credibilità E quindi Dicono Vabbè Non è un lavoro È una PDT Una perdita di tempo Quanto mi fate tenerezza Io ci campo E se ci campo io Ci campo anche Paradise E prima di Paradise Ci campavano anche altre persone Insomma Siamo arrivati a un punto Tra l'altro Io e Antonio Paradise Si chiama Antonio Di non volere Altre persone Allamorare con noi Perché perdono tempo E ci fanno perdere Molto più tempo Molto più tempo E quindi un giorno Paradise mi dice Antonio Io direi Che è meglio Che siamo solo Io e te Ci facciamo il culo Come una capanna Però è meglio Almeno non perdiamo il tempo Gli volevamo da torto Gli potevo mai dare torto Adesso abbiamo Tre postazioni libere Tre Tre postazioni libere C'è la crisi Brutti cazzoni Che non siete altro Che vi piace solo lamentarvi Bambocci 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 Tre postazioni libere Abbiamo pubblicato Che stiamo cercando personale Nessuno si candida Ma com'è possibile Com'è possibile Il discorso è molto semplice Lo dico sempre Qui Vedi qui davanti a me C'è solo un ignamma E a qua Adaschiavark Siamo dei liberi professionisti Cerchiamo di fare le cose E se ci andiamo Bene siamo buoni Tutto quant Invece no Voi vi accontentate Del fisso mensile Del misero Miserissimo fisso mensile Magari di mille euro al mese E basta per tutta la vita Quindi voi Trascorrerete la vostra vita Nella più totale Mediocrità Che cazzi che siete Siete dei cazzi allerta Oh dio mio Ringrazio Dio Che mi ha fatto in questo modo Sarò sbagliatissimo Sono la persona più sbagliata del mondo Però Sono felice Di non essere come Tutti quanti voi Ma come sono felice Niente di meno Uno una volta Tempo fa Dopo che Un ragazzo Che lavorava qui Mi ha Diciamo convinto Nel dare la possibilità A uno Di mettersi in gioco Dopo una settimana Di proprio come un tarlo Dico vabbè Ok Diamo io una possibilità Questo qua non viene al colloquio di lavoro Assurdo Assurdo Poi mi contatti e dice Senti ma perché non puoi venire tu Ci facciamo questo colloquio A Portici Davanti a una tazza di caffè Ovviamente non è mai venuto Non sono mai andato Nemmeno io Non gli ho manco mai risposto Ed è un disoccupato Continua a non fare un cazzo E continua a farsi le foto Con i cocktail in mano Io sono sconvolto Io passo Leggermente indere A cercare soluzioni Per aggiustare Le cose Per aggiustare le vite La mia di vita La vita di chi collabora con me La vita di chi si rivolge All'Illino No Way Che vuole andare in Inghilterra Agli stranieri che vengono in Italia Che si vogliono godere Una vacanza E un'esperienza Negli alloggi artistici E cioè Questo Vi faccio un esempio Ok Vedete questa cosa qui Ok Questa qui Questa la vedete Questa È una scala di campagna E La volevano buttare E io l'ho pitturata Tutto E l'ho attaccata Vicino al muro Ci abbiamo fatto Tipo una specie di guardaroba Ci azzecchiamo le cose sopra E le cassette Ok Sono cose banali Lo so Tante persone lo fanno Ma è un esempio Dio Cazzo Si deve trovare una soluzione Che cazzo vi lamentate a fare Brutti rincoglioniti Che non siete altro No eh Mi avete fatto utilizzare Prima un termine Che Dio Per quanto siete Bambocci Certe volte Quindi Tu Se tieni le palle Cazzone Che non sei altro E sei un cazzone Meno cazzone degli altri Ok E hai voglia di imparare E sei una persona puntuale Dio mio puntuale Rispettosa dell'amore altrui Perché uno che fa tardi Non è rispettoso Degli altri colleghi Sei una persona Che si sa prendere le responsabilità Sei una persona Che è risolutiva Che cerca le soluzioni E che non fa perdere Roti E soprattutto Che hai tantissima voglia Di imparare Cazzo Fatti vivo Ne siamo pochi Ne siamo rimasti pochi In Italia In effetti Che vogliono fare Queste cose Cioè Risolvere le situazioni negative Trovare soluzioni E soprattutto Riuscirci Dio Quindi Se Ti va Di collaborare Con delle persone creative Che Azzeccano il cervello Terribilmente Fatti vivo E magari ne parliamo Ti prego Se sei uno psicopatico Se sei una persona Che Non te ne uno cazzo La fa E che pensa Che poi Solo si diverte Cioè noi ci divertiamo Ma lavoriamo terribilmente Cioè facciamo un culo così Eh Quindi Se la prendi In una maniera seria E sia una persona seria E sia una persona seria Però una persona alla quale Piace la vita Eh Piace la vita E il mettersi in gioco Eccetera eccetera Contattami Ti faccio un culo così Ti faccio un colloquio Dove Ti stridolo Se mi dici delle palle Nel curriculum Perché preferisco uno Che mi dice Vada io non so fare niente Ma ho tanta buona volontà Che poi dopo lo dimostra Piuttosto che uno dice Sono laureato in questo Ho fatto quest'altro E poi dopo Non sa fare un cazzo Eh Comunque fatti Fatti vivo Caro amico Ti spiezzo in due E poi Costruiamo cose Costruiamo Il futuro Ciao